A partire da oggi, con le nuove regole, sono 7 milioni gli alunni che svolgono attività di didattica a distanza o che comunque non possono frequentare in presenza. Il dato non fa che rendere ancora più complicata la situazione nelle scuole italiane, con il contagio che continua a diffondersi, anche se da oggi tantissimi sono i docenti vaccinati. Si parla di più di 600 mila dosi somministrate a tutto il personale scolastico. Le certezze però sono davvero poche, anche perché alle norme del DPCM si stanno sovrapponendo le disposizioni delle regioni, quelle del Ministero dell'Istruzione e dei diversi uffici scolastici regionali, come è accaduto sulla questione della didattica in presenza per gli alunni con disabilità, BES e DSA. Senza ripercorrere tutte le tappe della complessa vicenda, diciamo che ad oggi la situazione è complicata perché organizzare le attività in modo da garantire contemporaneamente la didattica in presenza ad alcuni alunni e la didattica a distanza a tutti gli altri appare sempre più difficoltoso. Così come a tutt'oggi non sono sempre chiare le modalità di intervento dei docenti. Devono essere necessariamente presenti in classe o possono fare lezioni a distanza da casa? In alcune scuole il dirigente chiede la presenza a scuola a tutti i docenti che operano nella classe in cui l'alunno con disabilità frequenta, con inevitabili difficoltà per garantire le lezioni a distanza a tutti gli altri. E se in una classe nessun alunno chiede di stare in presenza, cosa devono fare i docenti? Altro tema complesso e delicato è quello delle vaccinazioni. In alcuni casi le persone a cui era stato somministrato il vaccino AstraZeneca avrebbero accusato nei giorni successivi disturbi e malori piuttosto gravi. Si parla anche di qualche morto. Per la verità i casi sono per il momento molto limitati e non è ancora neppure stato accertato se davvero gli effetti siano legati al vaccino o siano dovuti ad altri fattori. Resta il fatto che tanto è bastato per creare preoccupazione fra i docenti che, in più di un caso, pur essendosi già prenotati presso i servizi sanitari del territorio, hanno deciso di non sottoporsi più alla vaccinazione. E questo ovviamente non fa altro che rallentare ulteriormente i tempi del ritorno alla normalità. Non vanno infine trascurate le proteste del Comitato Priorità alla Scuola che continua ad organizzare manifestazioni e flash mob in tutta Italia per chiedere che si torni al più presto alla didattica in presenza, almeno nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie che appaiono le più colpite dalle misure contenute nel DPCM e nelle diverse ordinanze regionali. Le chiusure, ricorda il Comitato, stanno creando differenze inaccettabili fra le diverse regioni. In Campania i bambini dell'infanzia e della primaria hanno frequentato per 35 giorni circa. Nelle regioni del Nord sono andati a scuola per 100 giorni almeno. Ed è solo un esempio fra i tanti. Bene, ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, seguiteci anche sul portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it, scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie. 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 Grazie.